Lì fuori è l'Islanda, dopo 10 giorni torniamo a casa, ma partiamo dall'inizio di questa storia. Scalo a Francoforte. Questo è il base hotel. Adesso facciamo vedere la prima stanza. Ciao. Bagno. Questa è la stanza. Letto. Stiamo andando a Gardor, che è vicino, più o meno 15 km. Ci sono dei fari. Andiamo a vedere i fari. C'è un faro, forse, credo. Se ho capito bene c'è il faro più grande di Islanda. Andiamo ad un vento molto forte. Un'anità. Sono le 7. Facciamo colazione e ci dirigiamo verso il Circolo d'Oro. Questi tubi che vediamo lungo la strada, sono i tubi che portano l'acqua calda a Reykjavik. Questa è la prima tappa, che è la spaccatura delle due placche, quella nordamericana e quella dell'Eurasia. nel punto di maggiore evidenza il resto è tutto sott'acqua ed è anche sede del primo parlamento europeo poi abbiamo fatto, abbiamo fatto, organizziamo facciamo una casa mia, facciamo una casa mia e alla fine decisero di farla qui ok sei dove? siamo arrivati al geyser fa freddo, molto più freddo rispetto a dove eravamo prima non so se siamo saliti di vuota ma siamo allontanati sicuramente di 50 km andiamo a Gullfoss a vedere la cascata le cascate di Gullfoss da Gullfoss è tutto abbiamo finito il Golden Circle Circo, Circo e adesso andiamo verso Edimburg-Gastanus Edimburg-Gastanus